Un alluvione, l'evacuazione di 16.000 cittadini e una grande mobilitazione di operatori e volontari della Croce Rossa italiana provenienti da tutta Italia. E' questo lo scenario affrontato nella grande esercitazione che la Croce Rossa, in collaborazione con la città metropolitana di Torino e il Comune di Settimo, hanno organizzato presso il Centro Fenoglio. Obiettivo prioritario è stato mettere alla prova il Centro Cottura, una grande struttura in dotazione alla Croce Rossa, in grado di fornire in caso di emergenza dai 60 agli 80.000 pasti al giorno e che per le sue dimensioni richiede diversi giorni di allestimento. E' importante perché è unica nel suo genere ed è l'unica struttura che in questo momento verrebbe dispiegata in caso di calamità e dovrebbe essere utilizzata per rifornire gli eventuali centri d'accoglienza, a differenza di quello che era capitato all'Aquila, che in ogni centro avevano comunque piazzato delle cucine. Ci sono circa 150 operatori di tutta Italia, sono intervenuti i centri di potenza di Roma, della Sicilia, di Verona, insomma tutte quelle strutture che sono deputate per la Croce Rossa italiana a intervenire in emergenza. Questo come potete vedere è l'atto dei forni che poi abbiamo una linea dei primi e sughi e questo è il settore dei secondi. A supporto di questa struttura abbiamo una cucina rotabile che è quella che interviene nelle prime 24 ore per dare il primo supporto di nucleo di retrovaliamento per gli operatori e chi eventualmente ne ha bisogno. Per la prima volta l'esercitazione della Croce Rossa non si è limitata alle strutture interne, ma ha coinvolto tutto il sistema della protezione civile. La città metropolitana di Torino ha allestito il COM di Settimo Torinese presso il centro polifunzionale Fenoglio, come se dovesse simulare una situazione di emergenza reale in cui non esiste alcuna infrastruttura di base. In particolare è stata creata una rete wifi locale grazie al supporto dell'unità mobile e di telecomunicazioni. Abbiamo fornito i servizi alla sede centro operativo misto, quindi fax, connessione, telefonia VoIP periferiche che sono sul camion e che abbiamo messo in remoto nella sala COM, distribuendo le funzioni per le necessità che aveva la gestione dell'evento. Inoltre è stato monitorato il territorio con un drone dotato di una telecamera con sensore termico infrarosso.